Ciao a tutti, siamo qui in diretta dal campo con Daniele Orazzi per chiedergli un po' circa l'andamento della partita. Allora, come è andato questo primo tempo? Questo primo tempo è andato bene, per la prima volta siamo in vantaggio e abbiamo ritrovato una punta vera e stiamo giocando bene, finalmente. Anche se non stiamo sfruttando al meglio tutte le occasioni. Ok, quindi che cosa pensate di migliorare in questo secondo tempo? Speriamo appunto di sfruttare al meglio le occasioni, che potevamo fare molti più gol, almeno due o tre gol in più. Ho capito, con quanto allo schieramento come vi siete posizionati questa volta? Rispetto alle altre partite siamo passati dal 3-3-1 a un 3-2-2, sembra andare meglio. Perfetto, va benissimo, allora non possiamo che farvi un in bocca al lupo per questo nuovo tè.